Ecco, da qui non sono saltato. Ok, ma possiamo saltare oggi? No, invece non lo faremo. Cominci a parlare come mio padre. Dai, andiamo. Ci sono prove molto più difficili che saltare da una scogliera a nove anni. Quando Gloria è entrata nella mia vita, ho trovato il coraggio di saltare nel vuoto. Lei mi ha insegnato che la paura di morire non è nulla in confronto a quella di non vivere. E che 20 euro per un taxi possono essere la chiave di una felicità assoluta. Non esistono madri perfette né padri ideali. Ognuno fa quello che può, improvvisa. Oggi mi basta guardare Gloria, sentirla ridere per dimenticare il resto. Conta solo il momento presente. Conta solo la sua vocina che non mi abbandonerà mai. Ne è falsa la pena. Anche quando la vita ha in serbo un contrattempo, un malfunzionamento. Una debolezza. Proprio qui, vicino al cuore. E i medici ti spiegano che appunto non c'è nessuna spiegazione. È così. È la vita. E che un giorno Gloria si addormenterà e non si sveglierà più. I medici non si erano sbagliati. Gloria se n'è andata poco dopo aver trascorso i più bei momenti della sua vita in famiglia. Mio padre mi ha insegnato ad affrontare le mie paure e mia figlia ad affrontare la vita. A volte ci sono delle cadute che non si fermano mai. Ma io ho voluto che ogni attimo di questa caduta fosse una festa. E oggi porto dentro di me tutti quei minuscoli istanti passati con mia figlia. Gloria è qui, vicino a me, in ogni momento, per sempre. E domani tutto comincia. Ciao! Ciao! Grazie per la visione!